Salve a tutti amici di Spazio, eccoci qui con un riassunto delle principali news di oggi. Secondo Bloomberg, il governo cinese avrebbe spiato per anni i server di Apple. Ma non si parla solo di Apple, nel rapporto infatti si parla anche di altri colossi come Amazon, che per Bloomberg avrebbero scoperto già da tempo di essere stati spiati e di aver deciso di lasciare gli utenti all'oscuro di tutto. Apple naturalmente ha risposto alla nota testata giornalistica negando la cosa e dicendosi fortemente delusa per il suo comportamento, visto che Bloomberg da sempre si è distinta per professionalità, accusandola di conseguenza di aver alimentato la disinformazione. È difficile infatti che un'azienda come Apple, che si batte da sempre per proteggere la privacy dei suoi utenti, si lasci scappare una frode così grave. A maggior ragione se poi nel rapporto si legge di presunti driver infetti inseriti nei server di Supermicro, che sarebbe l'azienda a cui Apple e Amazon si affidavano per gestire i loro data center, quindi praticamente stiamo parlando di una svista che per aziende di questo calibro potrebbe definirsi quasi banale. Tuttavia nel 2015 Apple scopò veramente un driver infetto in un server, server dichiarato da subito isolato, in un episodio che la società di Cupertino affermò di non aver avuto alcuna ripercussione. Da qualche minuto Apple ha rilasciato anche un comunicato stampa ufficiale attraverso la sua newsroom, dove spiega l'accaduto e diffida nei confronti di Bloomberg. La storia in realtà è alquanto strana e fa anche a tratti paura, però stiamo parlando pur sempre di Apple, quindi in linea di massima dovremmo stare tranquilli, fino a prova contraria che nel caso comunque vi segnaleremo. Nei giorni scorsi abbiamo parlato più volte dei problemi di connessione che affliggono i nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max, problemi lamentati da un gran numero di utenti fin dai primi giorni di vendita. Il problema si identifica con l'impossibilità di connettersi alla rete LTE in luoghi dove altri smartphone come gli stessi iPhone X e anche iPhone 8 registrano prestazioni nettamente superiori o quantomeno stabili. A quanto pare Apple avrebbe già avviato le sue indagini proponendo ad un numero ristretto di utenti di installare un baseband logger sul proprio dispositivo che permette di tracciarne la connessione cellulare, quindi al fine di capire l'entità del problema e di studiarne una soluzione. Nonostante tutto, molti utenti al contrario continuano ad affermare che su iPhone XS ed iPhone XS Max la connessione risulta molto più veloce e stabile rispetto ai modelli precedenti, ma in ogni caso vi daremo aggiornati i suoi eventuali sviluppi e, a proposito, se siete fra gli utenti interessati fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Cosa facciamo con i nostri Apple Watch? Una recente statistica ha evidenziato che la maggior parte degli utenti usa il dispositivo per controllare i propri messaggi e pensate un po' per rifiutare le chiamate in entrata anziché rispondervi. Subito dopo, in grado comunque consistente, lo smartwatch di casa Apple è utilizzato per tracciare l'attività fisica, ma soprattutto per monitorare il battito cardiaco. Dopo tante altre funzioni che non sto qui ad elencarvi, le meno utilizzate sono l'avvio di chiamate tramite Siri e, udite udite, il nuoto che, al contrario, Apple pubblicizza così tanto in tutti i suoi spot. La gente, a quanto pare, continua a diffidare dell'impermeabilità del dispositivo, evitando di correre il rischio, anche perché, dai, il costo a cui questo viene venduto è leggermente altino. Quindi, perché correre il rischio? E c'hanno ragione gli utenti. Io, però, il bagno me lo farei lo stesso. Per concludere, Huawei anticipa Apple e si pone come diretto concorrente di Netflix grazie al suo nuovo Huawei Video, servizio di streaming on demand che sta facendo parlare di sé, soprattutto per il suo abbonamento a dir poco low cost. Il servizio che offre tre mesi di prova gratuita, con soli 4,99€ al mese, permette di accedere a numerosi film, programmi e serie TV grazie alle collaborazioni già strette con Sony, Rai, Nexo Digital e tante altre compagnie del settore. Naturalmente il servizio ha una sua app dedicata, che per il momento può essere scaricata solamente su dispositivi MUI, quindi targati Honor o Huawei, e consente l'accesso tramite abbonamento o anche tramite noleggio dei singoli prodotti fino a 48 ore. Bene, per oggi è tutto, io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre qui sui spazi. Perché la settimana prossima? Domani, non ha senso. Ci vediamo domani, ciao! Vi ricordo che il modo più veloce per ascoltare il nostro podcast è quello di seguirci anche sui nostri canali YouTube e Instagram TV, oltre che speaker e iTunes. È semplice, cerchi spazio su YouTube e puoi fare un clic sul tasto iscriviti, senza dimenticare di attivare anche l'icona della campanellina per ricevere tutte le notifiche ogni volta pubblichando un nuovo video. Ma non è finita qui perché vi parlavo anche di Instagram TV, infatti dovete scaricare l'applicazione sul vostro smartphone, seguirci anche su Instagram per non perdere neanche una puntata del podcast in versione video, però verticale.